Nel 2012 doveva finire il mondo e non è finito. Nel 2018 dovevano essere completamente sciolti i ghiacciai dell'Artivo, ma non è successo. Si dovevano anche desertificare delle città d'Italia, ma non è successo. Doveva scomparire la neve, ma ieri l'ha fatta nella mia località, dove è anche rara la neve. Quindi questo significa che il minimo solare è reale, invece il riscaldamento globale è una falsità, nullità, una cosa fake, fasola, come dite voi. Anzi, come dico io, perché il global cooling o raffreddamento globale è reale, ma il riscaldamento globale o global warming è falso. E' una bufala. Quindi ciò significa che siamo andati in una piccola era in graciale. Ma se dite che l'uomo ha il riscaldamento globale è una bugia. Perché il riscaldamento globale lo fa il sole anche. Ma il sole adesso è al minimo. Quindi vaffanculo a te che credi nel riscaldamento globale causato dall'uomo.